Natale è tanto male perché non puoi cambiare, perché è una cosa che tu hai è che ogni anno la gente non sta in questo domani è importante, ma non è un problema, ma ti è che il filmo è un filmo che non è un filmo, ma non è una cosa che si piacciono. Grazie a tutti.